Come ti chiami? Paola Schiattarella. Filippo Bombace. Il tuo studio di cosa si occupa? Si occupa di fare architettura. Progettazione architettonica e design di prodotto. Che radiatore hai scelto? La serie T, tubone e treo. Tavola. Di che colore? Bianco, corte e tela. Bianco opaco. Qual è il tuo colore preferito? Ahimè il nero. Turchese. Perché dovrebbero votare la tua squadra? E perché no? Il risultato è diciamo frutto di un ottimo lavoro di squadra, anche piuttosto divertente. Perché ha ritratto delle scene accoglienti. Cosa diresti ai tuoi avversari? Beh a casa mia chi vince paga da bere quindi gli direi che vuoi tu? Di venire a provare la neve calda. Ma su un'isola deserta cosa porteresti? Se proprio devo credo un cuscino per dormire perché ho tre figli piccoli e ne ho bisogno. Una matita e un paio di bacchette. E se fa freddo? Al freddo. Mi riscaldo con le bacchette. Il tuo cantante preferito? Ipergev. Pino Daniele dalla Baioni. Che musica associeresti al progetto? Musica classica. Let it snow di Franz Sinatra. Se non fossi architetto cosa faresti? Beh già faccio la mamma. Il batterista.